Ciao e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia della Juventus per la stagione 21-22 nella versione Player o Authentic, la stessa versione indossata dai calciatori. La maglia del kit Home 2021-2022 è un omaggio al decimo anniversario dell'Allianz Stadium, inteso come luogo in cui il talento dei campioni incontra l'entusiasmo dei tifosi. La schiena comprende un ampio spazio interamente bianco che ospiterà nomi e numeri in nero dei giocatori. Il crest societario è applicato in bianco sul cuore all'interno di una delle strisce nere ed è sormontato dalle tre stelle dorate. Il modello ha classiche strisce bianconere con stelle sul petto. L'inserto nel colletto 10 years at home esplicita in maniera ancora più netta il concept di questa maglia, legata alla casa della Juve e anche la volontà di parlare a un mercato più internazionale possibile. Le tre strisce adidas di colore nero trovano spazio solo sulle spalle. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione home è progettata per il fisico dell'atleta. Questi colori sono un classico del calcio italiano, la squadra più amata e più odiata probabilmente d'Italia. Nella mia classifica prende tre stelle. Bella, un po' classica, però veramente fatta bene, con tutti i dettagli, con tutte le orlature, tutte le cuciture fatte nel modo giusto. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poter acquistare la maglia ad un prezzo veramente imbattibile. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione Authentic o player, quella indossata dai calciatori. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia grande. Io sono alto 1,75 m e peso 50 kg. Quella che vedete è un'periare. Io sono alto 1,75 m e peso 60 kg. Quella che vedete è un'altra parte in cui